Grazie a tutti di essere presenti così numerosi, poche volte abbiamo visto una sala così di Gremita, ringrazio l'informatore agrario Clementina Palesi in particolare, io in questa mia relazione che deve durare poco farò un po' la parte del diavolo, parlerò poco della parte agronomica perché troverete poi nell'articolo sviluppata sufficientemente e facendo la parte del diavolo devo obbligatoriamente mettere qualche nota per poter poi discutere che è la parte secondo me poi più interessante di questo convegno. È naturale che questa tematica abbia una certa valenza, c'è un forte interessamento dei media per cui ne stanno parlando in maniera importante, c'è un forte interessamento anche del consumatore, per cui tutte le cose che abbiamo visto, le problematiche legate al controllo nel sangue per chi guida ed è una delle cose forse più deleterie a livello di consumo, gli aspetti salutistici, cerchiamo di essere tutti belli magri e bere meno, l'alcol si sa che ha una forte valenza calorica e soprattutto si cerca anche quando si beve di essere abbastanza spensierati e non dover pensare, madonna butto tre bicchieri in più o quattro bicchieri in meno. Ma non ultimo il mercato, il mercato è in questo momento qui in una fase di crisi per cui qualsiasi novità forse prende piede, non prende piede ma comunque ha una certa valenza, molte aziende ti dicono per favore il mercato fa fatica a assorbirmi il vino che mi presenti a 14, 14 gradi e mezzo, 15 gradi, perché il mio distributore piuttosto che il mio agente dice che quando vedono l'etichetta e vedono il grado rimangono un po' allibiti. Io penso che questo tipo di argomento sia un argomento che non va affrontato in maniera sbagliata, ossia non va preso di pancia perché noi italiani siamo classici, prendiamo la moda, iniziamo a partire con la moda e tutti quanti a fare vini a bassa gradazione. Io sono dell'idea che bisogna ragionare bene se questo tipo di approccio è un approccio che è positivo o negativo per la nostra viticoltura. Io penso che la demonizzazione, ossia il fatto di dire i vini ad alta creazione alcolica sono fuori dal mercato per cui bisogna in qualche modo andare a rivedere quello che è la tipologia di produzione, abbia un senso fino a un certo punto. Per cui penso che bisogna andare a valutare quelle che sono le problematiche. La prima problematica che mi sorge, e questo è un po' un momento di discussione che poi verrà sicuramente ripresa anche, spero, dai produttori, è il fatto che noi in 30 anni abbiamo conquistato mercato. Eravamo nessuno, abbiamo fatto un modello italiano viticolo andando a naturalmente caratterizzare il nostro prodotto con le nostre varietà, con sesti di impianto che sono passati da un certo tipo a un altro, andando a, sì è vero, a diminuire la produzione, avere attraverso i diradamenti, attraverso tecniche culturali per avere prodotti tendenzialmente più concentrati, che però hanno avuto riscontro sul mercato. Se noi siamo i leader attualmente dell'esportazione, si diceva che siamo passati, le ultime statistiche danno che siamo a 22 milioni di ettolitri di vino esportato, presumo e penso che un merito ce l'ha anche il modello viticolo italiano. Per cui in questo senso difendo in parte queste scelte che abbiamo compiuto negli anni e poi vi pongo un'altra logica. Siamo sicuri che tutti i vitigni italiani poi si possano prestare a essere lavorati, poi ce lo diranno i nostri amici tecnologi, essere prestati a lavorare per una bassa gradazione? O questo potrebbe essere un problema. Io rammento nella mia lunga o breve esperienza, vitigni italici sono tutti vitigni che non sono vitigni internazionali, non sono varietà, nel caso normalmente che abbiamo i nebbioli, sono normalmente ad alto livello contenuto polifenolico, hanno problematiche di maturazione polifenolica, per cui se li raccogliamo piuttosto precocemente poi abbiamo tutta una certa difficoltà nel dover compiere, portare a maturazione la componente polifenolica. Abbiamo il sagrantino, abbiamo l'aglianico del vulture, abbiamo tante varietà, San Giovese stesso e il discorso della bassa gradazione funziona con i nebbioli, funziona con i brunelli, funziona con tante varietà che hanno dato lustro a questa viticoltura. E allora io penso che bisogna ragionare in maniera diversa, non tratto le uve bianche perché secondo me è molto più semplificata la problematica delle uve bianche, la problematica vera è bisogna lavorare in funzione di quelle che sono, come posso dirvi, poi vedremo una disgiunzione dei due aspetti, non si deve demonizzare uno e non si deve esaltare l'altro. Possono percorrere due vie comuni senza dover tornare indietro su un modello, ma facendo un modello nuovo per i vini a più bassa gradazione con varietà magari che si prestano meglio. Noi abbiamo un patrimonio talmente ampio che non troviamo delle varietà che si possono fare, gli esempi sono i Lambruschi, gli esempi sono i Montepulciani anche, gli esempi sono tante varietà italiane che si prestano a fare questo, senza andare per forza a scassare un modello che ci ha dato delle risposte di tipo qualitativo. Poi un'altra cosa, il discorso della percezione. Io ho paura che forse, non so quanti di voi, mi sono illuminato domenica mattina verso notte e ho detto che c'è qualcosa che non mi funziona questa cosa. Per cui il concetto è che siamo sicuri che il consumatore ha ben presente cosa vuol dire assaggiare o bere un vino a 12 gradi e mezzo piuttosto che a 14. Io mi sono sbizzarrito e mi sono messo lì, ho preso le tabelle dell'alcolemia, quelle che trovate in tutti i bar, in tutti i ristoranti che ne avremo a noia, non le guarda tanto nessuno e sono andato a vedermi quali sono le caratteristiche cui quanto alcol in funzione a quanto bevo e a quanto peso e qui ho fatto un conto legato a cosa a una persona come me che è a stomaco pieno perché secondo me il vino va consumato a stomaco pieno, per cui va fatto mangiando, che è quello che è l'effetto anche salutistico. Vi ricordo il paradosso francese, il paradosso francese è legato al fatto che loro consumano tanti grassi ma alla fine hanno dei livelli di problematiche al cuore molto basse. Perché hanno questo? Perché consumano almeno un bicchiere, un bicchiere e mezzo a pasto. Questo è fondamentale per spiegare determinate situazioni. Ho fatto questo modello che ho interpolato un po' i dati dei vini a 12 gradi con i vini licorosi a 18 e alla fine tenendo conto delle quantità e sono arrivato a valutare, io vorrei essere 80 kg però sono di più, comunque stomaco pieno di 80 kg e alla fine mi sono trovato che per arrivare a 0,5 di alcol in mia, in un caso 12-12,5 faccio 500 cc, in un altro caso faccio 440-450. Qui non è una differenza così mostruosa e qui faccio qui, questi sono i 4 bicchieri che posso bere quando, scusate le foto, sono casalinghe per cui, e questi sono i 3 bicchieri e qualcosa che posso permettermi invece di un vino a 14 gradi. Non so se per questi quantitativi possa valer la pena rimettere in discussione un modello. Questo è il mio modo di pensare, ovvero sì, io penso che probabilmente conviene sdoppiare le due cose, tenere il modello che abbiamo fino adesso e continuare a implementarlo. Certo, il problema grosso è che la gente, secondo me, non è che non vuole i vini alcolici, non vuole i vini pesanti, non vuole i vini che hanno problematiche nel bere. Se abbiamo giusti rapporti equilibri, bevono i vini tranquillamente a 14 gradi senza accorgersene. Però non possono dirmi che a 14 gradi, appena bevo 14 gradi mi gira la testa o se lo bevo 12,5 non mi gira la testa, non esiste una cosa del genere, perché la quantità d'alcol è limitata. Poi, alla fine della fiera, se vogliamo mettere, che dobbiamo bere vini più leggeri, che abbiano un equilibrio diverso, che abbiano situazioni legate al rapporto con l'acidità, mi sta benissimo. Riduciamo pure l'alcol, salvaguardando quelle che sono le nostre poi prerogative viticole italiane. E poi, non ultimo, in questo novelo delle situazioni che alla fine dobbiamo andare a discutere, tenete conto che ci sono le bollicine. Perché si bevono più bollicine? Perché sembra un vino più immediato. Non è vero che è un vino più immediato, sono delle bollicine che tranquillamente fanno 13,5, tu le bevi tanto bollicine, figurati se le bollicine hanno tanto alcol. Ce ne hanno. E qui è un modo di approccio che è scorretto, secondo me. Per cui, per concludere, non enfatizzerei le problematiche legate al rapporto tra un vino con relativo alto, certo uno si vende vino a 18 gradi, 19 o 17, quello è problematico, ma i 14 gradi, 14,5, secondo me sono rispettabilissime e si possono. L'altra cosa che voglio dirvi è, secondo me, bisogna partire dall'informazione, dall'educazione, dalla consapevolezza del consumo, che sono più importanti della repressione. Per cui bisogna partire dal far capire che cos'è il vino. Se non si capisce che cos'è il vino, è neanche inutile discutere. Perché io, se mi presento un vino a 0,5 di grado al corco, io non lo bevo. Non bevo la Coca-Cola, bevo l'acqua, faccio prima. E non mi dicano che ci sono effetti salutistici. Si sa che l'effetto salutistico è legato anche all'alco. Fondamentalmente. Ma certo che non bisogna essere degli avvinazzati che si vengono e si tracanna bicchieri su bicchieri, come succede al Vinitali il sabato e la domenica. Questo è per dirvi. Poi, un'altra piccola cosa. Per favore, vini d'arcolati. Io citerei che mi chiarissero bene il livello fino a che punto, perché dalle esperienze che ho io, in molti casi ci sono tante piccole situazioni che poi non si capiscono. E un'altra cosa, per favore, verso gli agricoltori, verso i viticoltori. Ci fanno fare altra carta. qua, perché io, se sono corretto verso il consumatore, devo dirgli al consumatore, guardate che ho fatto il dearcolato, l'ho dearcolato 4, 5, 7, 8. Non mi vengono a dire che poi non si fanno queste cose, perché allora non è corretto. E un'altra cosa, dico, noi, se fanno i vini a 0,5, 1, 2 gradi alcolici, noi viticoli che ci stiamo a fare? Non conterà mica la materia prima, no? Grazie.